eccoci qua ciao ciao dunque ho comprato la plug in hybrid o sto per comprarla e però cosa cavolo mi serve per ricaricare a casa arrivo a casa la sera felice con l'auto nuova e poi con le spine come ci mettiamo cosa mi serve per poter ricaricare pannelli fotovoltaici trasformare la casa in una centrale elettrica chiamare elettricisti tecnici portarmi una pala eolica e installarla direttamente nel mio giardino cosa serve per ricaricare una plug in hybrid assolutamente niente e vi spiego perché ragazzi sto andando a pesca no ecco qui il caricatore domestico l'unica cosa che serve per poter ricaricare la plug in hybrid quando la portate a casa e possibilmente ogni giorno tutte le sere tutte le notti attaccare questo per mantenere la batteria della nostra plug in hybrid sempre carica perché comprare una plug in hybrid e non ricaricarla non ha senso conviene a quel punto andare su un'altra motorizzazione o su un benzina puro che è un po più leggero e non si porta da presso il peso a quel punto inutile delle batterie allora ricarichiamo sempre a casa e per ricaricare a casa non serve nient'altro che questo questo è l'attacco tradizionale dello sportellino dell'auto quindi difficile confondersi mentre questa è una normalissima spina italiana quella piccolina da 10 ampere avete tutti in casa una presa così no per questa spina benissimo quindi questo è il caricatore domestico che vi consegnano con l'auto da non confondere assolutamente con il cavo di ricarica per le colonnine pubbliche per le colonnine elettriche e quello ovviamente a meno che non siete particolarmente fortunati non lo danno con l'auto dovete comprarlo esiste sia della cupra ma di qualunque altra marca va bene purché abbia le caratteristiche giuste sia c'è un cavo di tipo 2 va bene quello è l'attacco per la nostra auto e per la colonnina tipo enel x a proposito di ricarica pubblica c'è un bel video da guardare proprio sul canale quindi vi rimando a quello per altri dettagli sulla ricarica pubblica ma a casa bene a casa avete questo caricatore con 4 spie che 4 led che si accendono di verde di rosso possibilmente di bianco che stanno a indicare lo stato di funzionamento del caricatore e quindi anche della ricarica dell'auto se tutto è a posto le spie sono verdi fisse tutte se comincia a lampeggiare qualcosina dobbiamo preoccuparci in generale può lampeggiare la prima spia che è quella della relativa all'abitazione poi abbiamo una spia relativa al caricatore vero e proprio e quindi un controller relativo per esempio a un surriscaldamento un accesso di temperatura c'è il controllo temperatura quindi in caso di surriscaldamento il caricatore si stacca una terza spia relativa invece al lato macchina quindi qualcosa che non va lì e infine appunto una spia di segnalazione errore generica da leggere associata alla spia che si è accesa relativamente a una delle cose che vi ho detto finora in generale qual è il problema che eventualmente si verifica quando arriviamo a casa e attacchiamo il caricatore a casa a una comunissima presa italiana bene che quella presa non abbia il filo di terra che peraltro una cosa importantissima perché ci permette di scaricare tranquillamente e qualunque dispersione ma in alcuni casi magari una presa non proprio conforme un impianto elettrico un po datato può capitare di non avere il filo di terra oltre ai due fili ai due poli quindi in quel caso il caricatore non va e direi giustamente allora l'unica cosa da verificare e l'unico problema che di solito si verifica il più comune è questo qui a quel punto bisogna intervenire naturalmente con un tecnico ma solo perché voi non siete a posto non perché sia necessario dunque mi sono liberato della zavorra del caricatore quello il caricatore domestico e vi ho fatto vedere che è incluso con l'acquisto dell'auto da non confondere naturalmente con il cavo di ricarica elettrica quello che ovviamente serve per la colonnina elettrica e su questo naturalmente vi invito a vedere il video che ho realizzato appositamente qui nel canale per quello che riguarda dunque il caricatore domestico che in generale lasciamo a casa a meno che non pensiamo di dover ricaricare anche da qualche altra parte ma se lo facciamo in maniera sistematica a quel punto forse è più comodo dotarsi di un secondo caricatore qualunque va bene insomma purché abbia quegli attacchi lì allora cosa serve bene non serve nulla il caricatore è una presa domestica italiana dovete ragionare in termini di elettrodomestici l'automobile è come un grande elettrodomestico un nuovo elettrodomestico che state portando in casa come una grossa lavatrice un frigorifero un bel microonde di quelli potenti in effetti l'assorbimento di energia è equivalente quindi l'unica cosa da decidere è se caricare alla massima potenza o a una potenza ridotta questa è un'opzione che possiamo scegliere o dall'infotainment dell'auto o direttamente dall'app Cupra Connect è una cosa che si può modificare in qualunque momento in pochi secondi qual è la differenza? beh col caricatore a massima potenza caricherete intorno ai 2 kilowatt a proposito apro una parentesi perché c'è un po' di confusione su kilowatt e kilowattora sono due unità di misura simili ma in realtà molto diverse perché misurano cose diverse i kilowatt la potenza, i kilowattora il consumo, la quantità di energia dunque alla massima potenza il caricatore assorbe circa 2 kilowatt che praticamente equivalgono a 2 terzi in generale della potenza massima di un caricatore di un contatore domestico in generale la potenza è di 3 kilowatt con un picco di 3.3 naturalmente poi ciascuno di noi può chiedere l'incremento della potenza del contatore a 4, 5, 6 e così via è possibile fare una richiesta al gestore della rete elettrica per un incremento gratuito della potenza del contatore valida soltanto in fascia oraria notturna 23-7 del mattino e per i festivi ma verificate questi dettagli nel link che vi metto nella descrizione del video dopo aver installato una wallbox tra quelle però indicate appunto dal gestore quindi se comprate una wallbox tra quelle previste nell'elenco fornito dal gestore e ovviamente chiamate il tecnico che vi rilascia tutte le certificazioni caricate la documentazione eccetera a quel punto potreste avere un incremento gratuito della potenza del contatore credo a 6 kilowatt previsto appunto per agevolare la ricarica delle auto elettriche ma naturalmente questi dettagli verificateli sempre perché possono modificarsi in qualunque momento ma ripeto è un elemento che noi non dobbiamo necessariamente considerare io parlo delle cose necessarie cosa serve per ricaricare l'auto questo non serve si può fare ma non serve allora alla massima potenza avrete un assorbimento di 2 kilowatt dicevo e dicevo la differenza tra kilowatt e kilowattora bene il caricatore della formentor ma in generale delle plug-in hybrid non è velocissimo quello della formentor carica a una potenza massima di 3.7 kilowatt il che significa che in un'ora carichiamo nell'accumuliamo nell'accumulatore quindi nella batteria dell'auto 3.7 kilowatt ora a casa però difficilmente riuscirete a caricare a quella potenza cioè a 3.7 kilowatt che è un po' di più del contatore che abbiamo in casa per farlo sarà necessario comprare e installare una wallbox qualunque wallbox installiate anche quella mega super potente non caricherete mai a più di 3.7 perché ricordate comanda sempre l'auto anche quando vi attaccate una colonnina enel x da 22 kilowatt caricherete sempre a 3.7 perché quella è la massima potenza gestita dall'auto bene se decidete di andare alla massima potenza 3.7 anche in casa avrete bisogno di wallbox elettricista aumento della potenza del contatore e così via anche questo non è necessario ricaricare alla massima potenza col caricatore domestico quello fornito con l'auto quindi senza spendere un euro in più oltre a quelli che abbiamo già speso per l'auto che non sono pochi bene massima potenza significa 2 kilowatt significa che se avete un contatore a casa da 3 kilowatt vi resta soltanto un kilowatt di potenza da distribuire tra le altre cose che inevitabilmente saranno accese in casa questo è il motivo per cui io personalmente ricarico sempre con carica ridotta è impostato così fisso per la mia auto cosa significa ricaricare con carica ridotta che invece di assorbire 2 kilowatt ne assorbiamo 1.5 dalla clip che vi faccio vedere qui accanto qui o qui vedrete che effettivamente c'è un assorbimento diverso l'assorbimento da 2 kilowatt scende progressivamente a 1.5 poco meno 1480 1490 nel momento in cui io disattivo la carica massima e attivo la carica ridotta quindi nel momento in cui faccio questo dall'app senza andare necessariamente in auto vedete come scende l'assorbimento quindi la potenza in termini di kilowatt apro una parentesi questo lo faccio perché ho installato una smart plug della meros metto il link in descrizione che mi permette di verificare in tempo reale i kilowatt quindi l'assorbimento e i kilowattora cioè quanta energia è stata consumata cioè trasferita all'auto e questo con una visualizzazione grafica statistica giornaliera settimanale mensile quindi lo trovo molto utile secondo motivo per cui ho preso una smart plug quindi una presa intelligente che funziona anche con i dispositivi in casa tipo amazon e così via è quello di poter attivare cioè accendere spegnere il caricatore senza fisicamente dover ogni volta disinserire e inserire la spina al muro una cosa che è un po' antipatica perché magari non sempre vado in garage e poi perché non penso che farlo tutti i giorni sia una cosa insomma benefica sia per la presa che per la spina quella di staccare e riattaccare purtroppo il caricatore non ha un suo interruttore quindi rimane acceso cioè rimane attaccato con i led accesi alla presa di casa io vorrei evitarlo mentre sono fuori insomma non ha molto senso però vorrei anche evitare questo stacca attacca continuo quindi una smart plug mi permette di avere un interruttore che non fa arrivare corrente al caricatore quando non serve magari si possono anche programmare delle routine di accensione e spegnimento cosa che io ho fatto in modo da averlo comunque sempre acceso quando noi torniamo a casa e attacchiamo l'auto quindi programmazione di routine compatibili con le nostre programmazioni delle ricariche dell'auto su come programmare le ricariche della batteria dell'auto altro video che trovate sempre qui nel canale bene un'altra considerazione da fare con la carica ridotta è beh ma quanto ci sta a caricarsi l'auto con carica ridotta non sarà mai pronta bene io uso l'auto tutti i giorni da mesi e carico con carica ridotta ho un contatore da 3 kilowatt non ho pale eoliche installate in giardino non ho wallbox e viaggio in elettrico quasi sempre l'ultimo rifornimento è stato fatto da me ai primi di febbraio siamo ai primi di marzo un mese senza fermarmi alla stazione di servizio naturalmente questo in funzione del mio utilizzo dell'auto che si presta perfettamente all'utilizzo della batteria del motore elettrico per la mia autonomia quotidiana io ricarico sempre naturalmente anche quando mi fermo e posso ricaricare ricarico e questo è importante perché le statistiche degli studi e delle ricerche ci dicono che il 75 per cento delle persone che ha un'automobile la utilizza per spostamenti che vanno dai 30 ai 50 chilometri giornalieri e noi ragioniamo sempre dicendo per esempio valutando le auto elettriche beh ma ha una batteria piccola posso fare 300 chilometri ragioniamo come se noi ogni volta che saremo in macchina dovessimo fare di fila di botto tutto in una volta 500 chilometri ma quando mai se ne facciamo 30 e tanto naturalmente se ci sono esigenze diverse cioè se si viaggia tanto si percorrono tanti chilometri tanta autostrada a quel punto è chiaro che andiamo su un'altra motorizzazione per esempio anche un diesel che per questo tipo di chilometraggio è sempre la motorizzazione ideale ma la maggior parte della gente non fa 300 chilometri al giorno la maggior parte della gente ne fa 30 e per fare 30 40 50 chilometri un motore elettrico è perfetto perfetto quindi nel mio utilizzo io vedo la stazione di servizio di rifornimento la pompa di benzina veramente una volta al mese è chiaro che se comincio a fare dei viaggetti e mi sposto comincerò a consumare più benzina ma quello ovviamente è come dire un uso un po' diverso rispetto a quello che è il mio standard abituale e quotidiano ricaricare a 1.5 kilowatt significa immaginando di dover ricaricare tutta la batteria dall'1% perché non arrivate mai allo 0% dall'1% al 100% cosa rara perché io a casa non arrivo mai così all'osso arrivo sempre con 10-20% ma immaginando di dover ricaricare dall'1 al 100% quindi significa circa 10 kilowattora perché quella è più o meno la capienza utile diciamo così cioè gestibile da noi la batteria è un po' più grande 12 kilowatt e mezzo 12,8 kilowattora ma quelli che noi possiamo come dire utilizzare per guidare poi da dover ricaricare sono circa 10 kilowattora quindi da 1 al 100% significa 10 kilowattora se io ricarico a 1.5 kilowatt significa che io ricarico un kilowattora e mezzo ogni ora quindi significa che facendo due conti 10 diviso 1,5 ottengo un 6,6 periodico cioè ci vogliono meno di 7 ore per ricaricare da 1 a 100 l'auto l'auto sta ferma la notte altra statistica abbinata a quella dei chilometri che facciamo e cioè sorpresa scoop per voi la maggior parte del tempo le auto non sono in movimento non sono in marcia sono parcheggiate allora questo significa che quando l'auto è parcheggiata può essere anche ricaricata allora questo è un po' il senso del plug-in hybrid e poi delle auto elettriche che naturalmente hanno caricatori più potenti più veloci quindi in meno tempo ricaricano di più ma per una plug-in hybrid che sta parcheggiata poi tutta la notte quelle 6, 7 ore, 5 ore dipende da quanta batteria abbiamo in partenza quando ci attacchiamo per ricaricare sono più che sufficienti per cui con una programmazione che io ho fatto sull'infotainment per esempio per avere l'auto pronta ogni mattina alle 8 naturalmente l'auto partirà addirittura dopo mezzanotte a lunedì notte, alle due di notte per farmela trovare alle 8 del mattino bella carica al 100% e magari anche riscaldata col sedile caldo va bene? quindi non è una cosa difficilissima siamo presi un po' dall'ansia, dell'autonomia come se dovessimo percorrere ogni volta 500 km tutti d'un fiato e anche dalla fretta eh ma devo ricaricare subito e velocissimamente ma perché? la notte quando mettiamo sotto carica lo smartphone beh non è che abbiamo la preoccupazione di averlo subito pronto la mattina quando lo prendiamo è pronto, è carico c'è una gestione intelligente della batteria ormai anche negli smartphone per cui l'auto funziona esattamente allo stesso modo tu la programmi per quando ti serve domani mattina alle 7 bene, partirà un po' prima invece dell'una di notte o di mezzanotte partirà magari alle 11 di sera dipende, se la batteria non è totalmente scarica partirà anche più tardi quindi io ricarico personalmente a 1.5 perché? per due motivi allora il primo motivo l'avete un po' intuito è in riferimento insomma a quello che ho detto sul contatore un contatore tradizionale da 3 kW allora per lasciare un po' di margine alla potenza in casa quindi poter accompagnare insieme alla ricarica dell'auto un elettrodomestico perché la notte può partire sempre una lavastoviglie un'asciugatrice, un climatizzatore, cose così allora sono dentro i 3 kW non ho problemi difficilmente starei dentro i 3 kW o comunque rischierei sempre di far saltare il contatore per esubero di potenza se andassi a 2 kW solo con l'auto allora 1.5 mi garantisce quel margine per lavorare con un altro elettrodomestico di notte altro motivo è io utilizzo una smart plug come ho detto che è un po' l'equivalente di quegli adattatori di quelle prese multiple che attacchiamo alle prese per attaccare poi 150 cose tutte su una presa cosa che non è molto raccomandabile perché aumenta l'assorbimento ovviamente sulla stessa presa soprattutto se poi quelle cose che abbiamo attaccato sono tutte contemporaneamente in funzione allora bisogna ricordare che le prese multiple come una smart plug funzionano in generale al meglio entro i limiti dei 1500 W di assorbimento quindi un kilowatt e mezzo allora per garantire diciamo così per evitare un sovraccarico sulla smart plug ma poi significa anche sulla presa di casa evitare quindi eccessivo surriscaldamento e un sovraccarico io ricarico a 1.5 che poi come avete visto dalla clip che vi ho inserito è un po' meno e sono a posto così non c'è un sovraccarico oltre quello che è tollerabile da una presa o da un dispositivo smart per cui ricarico a 1.5 per questi due motivi per non sovraccaricare le mie prese o le prese intelligenti e due per rimanere con un po' di margine ancora all'interno del massimo di potenza del mio contatore io mi trovo benissimo riesco a ricaricare come ho detto guido in elettrico per cui non ho fatto nulla beh sì l'unica spesa che ho fatto l'unica spesa aggiuntiva che ho fatto per poter ricaricare è stato appunto l'acquisto di questo smart plug di una quindicina di euro ma l'ho fatto come vi dicevo anche per poter misurare in tempo reale oppure poi attraverso delle statistiche l'assorbimento dei kilowattora e la potenza di volta in volta impegnata cioè avere come dire uno sguardo su quello che accade effettivamente tanto per capirne un po' di più bene mi pare che per questo video sia tutto se l'avete trovato utile magari un bel mi piace un bel like e magari iscrivetevi anche al canale perché insomma c'è al solito tanta bella roba per le nostre belle cupre formentora alla prossima ciao ciao ciao